Bambini, ma voi sapete chi è il papà di Valerio? Il papà di Valerio... è un eroe. Io sono Chris, sono un amico di Valerio. E non importa chi sei. Taggio amici per sempre. C'è un amico di Valerio. C'è bisogno di una famiglia, non è un psicologo. Non ce l'ho mai avuto un amico come te. Ma perché non mi metti? C'è bisogno di un amico. Che paura. C'è bisogno di un amico. C'è bisogno di un amico.